Non è solo la zona dei Colli, abbiamo intitolato la conferenza stampa in tour perché partiamo dalla zona dei Colli per poi spostarsi adesso nel rione Rancitelli per poi andare a Zanni, per poi percorrere Fontanelle, per poi percorrere la Marina Sud Nord insomma, questa amministrazione continua a non sentirci. Noi in aula ogni volta diciamo che deve essere curata la periferia che la periferia deve essere curata anzi prima del centro e che qui risiedono le persone ogni volta ovviamente questa amministrazione, il sindaco Alessandrini, disattende le nostre proposte. Questo è un grido d'allarme che ci è venuto fuori da centinaia di cittadini che ci hanno subissato di richieste perché la situazione è drammatica come vedete un luogo importante che è il cimitero dei Colli che è trafficato da centinaia di migliaia di persone tutti i giorni firmate dell'autobus riempite pieni di erba e quant'altro. Non si può fare competenze stampa praticamente a metà, i primi di maggio per dire allo sfalcio sfalcio deve essere fatto e programmato con una certa cadenza perché è l'igienicità della città. Si parla di questa problematica che investe la zona di Pescaracolli proprio quando l'amministrazione comunale annuncia il via ad una campagna straordinaria di pulizia della città. Noi oggi siamo arrivati al 30 di aprile e non abbiamo ancora una programmazione seria che è stata fatta. Ora l'amministrazione giustamente dice che partirà nella prossima settimana ma ci auguriamo che le zone periferiche abbiano la stessa attenzione che meritano anche le zone centrali però le lamentere ci sono e tutto questo cosa comporta? Comporta avere un proliferarsi di insetti, un proliferarsi di animali di ogni genere e riteniamo che le periferie non sono periferie di serie B a fronte di un'area centrale che è di serie A. La città è uguale in tutte le sue zone e noi stiamo cercando di dimostrare all'amministrazione che bisogna intervenire spalmando nello stesso tempo e con lo stesso rispetto il lavoro su tutto il territorio della città di Pescara.